un buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video di viticoltura oggi siamo al 14 di marzo e vi faccio vedere un fenomeno che sulla vite negli ultimi anni era diventato piuttosto raro da vedere mentre quest'anno si è ripresentato con con una notevole importanza diciamo così prima di farvi vedere però di cosa si tratta vi invito vi do 10 secondi per iscrivervi al canale come vi ho detto negli ultimi video quasi il 90 anzi più del 90 per cento di voi che guarda i miei video non è iscritto al canale a voi non costa nulla a me per me invece molto importante così mi aiutate è un modo gratuito appunto per sostenermi e per aiutarmi a crescere nei contenuti iscrivetevi in fondo sotto il video e poi partiamo con il video allora come vi dicevo siamo di fronte quest'anno ad un fenomeno che negli ultimi anni era diventato piuttosto raro da vedere si tratta del pianto della vite in questo vigneto che sono adesso sono un vigneto di dolcetto e possiamo vedere se ci avviciniamo ad una vite queste sono viti del 1968 che dai tagli di potatura i tagli di potatura sono completamente bagnati di linfa volgarmente chiamata linfa e i tagli di potatura sono appunto delle ferite da cui fuoriesce appunto la linfa e perché dico che era diventato un fenomeno abbastanza raro negli ultimi anni perché eravamo di fronte quantomeno dal 2019 in poi a un periodo di siccità più o meno intensa che è colmata appunto l'anno scorso con la fase più acuta della siccità in questi giorni dal 20 di febbraio più o meno ad oggi quindi in circa 20 giorni sono caduti 302 millimetri di pioggia qui a calosso province di asti 302 non rilevati e anzi in realtà contando anche la pioggia che c'è stata ai primi di febbraio quindi da febbraio in poi tutta quest'acqua ha contribuito appunto a finire sulle radici le radici con la ripresa vegetativa e tutta una serie di processi che avviene all'interno della pianta ha praticamente tirato su quest'acqua e adesso la sta tra virgolette sputando fuori dei tagli di ferita proprio non so se rende l'idea ma c'è completamente il tronco tutto bagnato di di quest'acqua che sgorga dalle ferite vi faccio vedere un'altra vite più nuova in cui si vede che il tronco è proprio totalmente bagnato guardate qui si può vedere addirittura la goccia e si chiama proprio pianto perché sembra appunto che sia una lacrima che scende dalle ferite qui è molto più di una lacrima è un fiume d'acqua praticamente perché come vedete ha bagnato tutto il tronco e anche compreso anche il il tutore è un fenomeno del tutto normale ma che si verifica soprattutto quando nella seconda parte dell'inverno insomma nelle settimane immediatamente prima la ripresa vegetativa avvengono molte piogge molte nevitate come appunto è stato quest'anno per fortuna sono avvenute perché eravamo veramente in una situazione estrema di siccità estrema che perdurava praticamente vi ho detto dal 2019 in realtà la 2019 è stata un'annata molto piovosa ma l'acqua è venuta solo in autunno mentre già tra la fine del 18 e i primi mesi del 19 c'era stata molta siccità quindi nel 2019 il fenomeno del pianto non si era verificato molto si era verificato l'ultima volta in modo così imponente nel 2018 però la grande siccità praticamente perdurava da direi da marzo febbraio marzo del 2021 tranne una breve parentesi in cui è piovuto abbastanza nel corso dell'autunno 2021 ma eravamo in siccità praticamente da tre anni e le piogge degli ultimi giorni hanno decisamente alleviato il problema a mio avviso non è ancora del tutto risolto perché non è che se fa 300 mm in un mese poi recupera tutta la pioggia che non ha fatto in tre anni però comunque una grossa mano l'ha già data speriamo nei prossimi mesi che continui con più regolarità in modo da poter tornare a respirare un po' di normalità nei nostri vigneti bene questo era il video che riguardava il fenomeno del pianto della vite spero vi sia stato interessante fatemi sapere da voi se avete vigneti se avete notato anche questo fenomeno e guardate qui sembra veramente una lacrima da questo sperone questa goccia che scende non è finta e ve la faccio vedere che la prendo sul dito avete visto non l'ho spruzzata io quell'acqua lì va bene vi ringrazio per la visualizzazione mi raccomando iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video